Siete dei aspiranti re dei pirati che vogliono tornare a giocare rosso? State cercando un deck che riproponga in vecchio stile l'aggressività e la velocità di una delle quattro tonalità principali? Quale sarà il leader in arrivo in OP07 che potrà rispondere appieno a tali esigenze? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. OP07 sta arrivando assieme ad altri leader micidiali che con le loro rispettive ciurme cercheranno di imporre un'egemonia sui sette mari a suon di cannonate. Tra i vari mix di colori, gli appassionati del rosso potranno tornare a vestire i panni di un personaggio monocromatico, visto che Ace di OP03 è stato l'ultimo in termini temporali e dopo di lui solamente ibridi. Ebbene, con il passare dei capitoli dell'opera manga, i lettori hanno iniziato a conoscere meglio uno dei leader più importanti e rappresentativi di One Piece, ovvero Dragon, che nel futuro potrà essere impiegato utilizzando un aspetto che prima di lui non è mai stato possibile prendere in considerazione. Ma ne parleremo fra poco. Infatti tra 500 anni si dovrà invertire il detto da padre a figlio, visto che qui il tatuato è arrivato dopo, ereditando la cromia di Luffy. E se è vero che i pargoli assomigliano ai propri genitori, ci sarà da divertirsi, soprattutto tenendo in considerazione che i loro effetti ricorderanno uno l'altro. Nel video di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck, scoprendo le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni del personaggio più carismatico dell'intera opera ideata dal maestro Oda. Opinione personale. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Dragon Rosso. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5.000 punti di forza e 5 vite a supporto vi permetterà nella vostra fase principale, una sola volta per turno, di assegnare due donne già assegnati ad un character sul terreno. La decklist in questione sarà strutturata in pieno stile rosso, aggressiva a quel che basta, e vedrà il quartetto di Machino, Belobetti, Luffy costo 2, Koala, Kid the Killer, Ivankov costo 4, Karasu, Lindbergh e Dragon Character, assieme al trio di Luffy dello Starter ed Ivankov costo 5, con il duo di Robin costo 1 e Inazuma per la parte character, assieme alle 4 copie di Table Manor Kick Course che chiuderanno sia il settore event che questa profile. Le carte cardine del mazzo saranno di sicuro, i Dragon costo 8 che minacceranno immediatamente l'avversario assegnando anche due donne esauriti ad ulteriori personaggi presenti sul terreno e gli stesso incluso, i Luffy sia a costo 2 che 5, i Kid e Killer e soprattutto il reparto rivoluzionario che si sposerà alla perfezione con l'effetto del leader che prima potrà potenziare se stesso per poi spostare risorse utili su qualsivoglia compagno d'arme per innescarne le abilità, mentre il resto, come le Makino, le Koala e i Manner, vi forniranno supporto difensivo contro attacchi rivali, soprattutto nelle fasi iniziali e centrali di un match. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la possibilità di assegnare donne esauriti grazie allo stesso Dragon Rush e i Luffy costo 2, spostando poi dove servirà a quegli stessi Don su un eventuale Kid Killer, Luffy costo 5 o Inazuma, che grazie alla loro possibilità di attaccare una volta messo piede in gioco, aggrediranno le difese rivali assottigliando all'evenienza sia le presenze ostili sul terreno nemico che le vite che quest'ultimo avrà a disposizione. In più, se utilizzerete la combinazione tra Lindbergh, Koala e Karasu, potrete sbarazzarvi di un blocker avversario e dallo stesso tempo attaccare per 7000 due volte, riducendo di 1000 il valore di forza del leader rivale o di un personaggio sotto il suo controllo. Ultimo, ma non per importanza, vedrà l'innesco di abilità essenziali come quella degli Ivankov, che, nel caso del costo 4, vi consentiranno di giocare un altro character rivoluzionario con forza pari a 5000 o inferiore direttamente dalla mano se verranno esauditi i requisiti, ed andare a cercare altri pezzi utili per la riuscita della strategia di gioco per quanto riguarderà il costo 5. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Ricordate che sarete un rosso e quindi avrete in mente una sola cosa, cibarvi delle vite rivali. Ma controllare a volte la board di sicuro non guasterà, soprattutto in vista di una chiusura futura che, senza degli elementi utili presenti in campo, faticherà ad arrivare. Infatti, come ogni rosso che si rispetti, la velocità la farà da padrona e il numero di rush nel mazzo ne sono la prova, e se disgraziatamente l'avversario vi prenderà le misure, potrete dire addio ai sogni di gloria. Per la fase offensiva avrete a disposizione praticamente l'intero mazzo, infatti, a parte i counter più 2000 e gli event, tutto ciò che andrete a pescare dalla cima del deck fungerà come arma da rivolgere verso le linee avversarie. Per quella difensiva, ad altro canto, non avrete molto a disposizione, ma se vorrete includere qualche personaggio, pensate a dei chopper blocker da 3, da sostituire con degli Ivan a costo 5. In descrizione comunque vi lascerò una lista che mi è stata fornita da Damon, che ringrazio, un ragazzo che gioca dalle mie parti specializzato in mazzi esotici. In questo modo avrete due differenti linee guida da testare e scegliere a seconda dello stile che più si adatterà alle vostre richieste. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo un counter più 2000, un event, un karasu, un key the killer ed un luffy a costo 2 o 5. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, questo mazzo non sarà di fascia alta, gli manca ancora qualcosa di impattante, ma allo stesso tempo coglierà di sorpresa l'avversario attraverso l'abilità dello stesso leader e degli effetti di cappello di paglia a costo 2 e dragon personaggio. Giocatevela davvero bene in fase di chiusura e spingete sull'acceleratore attraverso gli assalti massicci che, attacco dopo attacco, andranno non solo ad assottigliare le carte in mano all'avversario, ma anche le vite a sua disposizione. Ricordate, state giocando un rosso puro, la patria dell'aggro, quindi a grate. Per la win condition qui più cariche avrete a vostra disposizione meglio sarà, soprattutto se giocherete i luffy a costo 5 in fase di chiusura. In più tenete sempre a mente che il leader, o almeno così l'ho giocato io, dovrà possedere quei due don addosso da poter spostare altrove. Facendo così minaccerete sempre per 7000, forzando le chiusure rivali per poi staccare risorse da riattaccare dove si vorrà, preferibilmente su un rush, continuando a martellare fino a quando o si creerà una breccia o perderete nel tentativo. Invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno di sicuro i dragon, i luffy dello starter, i kid e killer, le otama e le bonni. Per il resto, questa che vi ho appena proposto è una lista che vede i rivoluzionari prendere il potere, ma ci saranno altre profile, come quella di damon per l'appunto, che seguirà altre strategie di gioco. Spetterà voi, come sempre, avere l'ultima dopo una sessione accurata di testing. Infine, per la fase counter, avrete a disposizione 24 più 1000 e 8 più 2000, che in assenza di blocker, costituiranno l'unico bastione dietro il quale proteggervi, grazie anche all'ausilio di manner che, a mali estremi, torneranno più che utili. Prima di concludere, volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Dragon parte per secondo, visto che già di turno 1 può impiegare in campo un luffy di OP01 e a turno 2, se ancora presente, sferrare ben due attacchi da 7000, uno di leader e l'altro di character. Tenete bene a mente che i don sui quali influirà il potere del tatuato dovranno essere assegnati e non esauriti, quindi considerato questo, regolatevi a livello matematico sui vari spostamenti da fare, iniziando ad erodere come l'acqua sulla sabbia ogni difesa rivale. Concludendo, Dragon per me rappresenta il ritorno in grande stile del rosso, dopo il capitolo segnato da Ace, e sono certo che per tutti coloro che vorranno divertirsi e testarne le dinamiche, rappresenterà una validissima scelta, data anche la sua costruzione, che non richiederà una spesa eccessiva. E voi, saggerete le capacità del capo dei rivoluzionari? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.